bella vittoria quella di stasera era una trasferta solo sulla carta agevole perché poi latina in casa ha sempre fatto ottime prestazioni siamo stati bravi dicevo col pot che concreti pochi fronzoli servivano i tre punti una bella prestazione e restiamo in vetta sì sì era quello che volevamo quello che cercavamo veniamo da un'ottima partita contro milano e volevamo confermare questo questo gioco che abbiamo dimostrato contro milano e anche anche questa sera se si è visto e siamo siamo felici soprattutto in fase break dicono siamo stati molto bravi non soltanto imbattuta anche con le due flotte ma soprattutto a tenere gli attaccanti avversari bene la correlazione muro difesa poi in contrattacco insomma gli attaccanti ce l'abbiamo sì abbiamo tre grandissimi attaccanti di palla alta quindi stiamo lavorando tanto su muro difesa è la la parte di gioco che ci siamo detti che dobbiamo allenare di più su cui dobbiamo migliorare da inizio anno e quindi siamo siamo soddisfatti questa questa sera abbiamo fatto abbiamo fatto bene imbattuta abbiamo fatto bene a muro quindi siamo più che soddisfatti chiudiamo l'anno con il botto arriva a verona dei kaziski uno che penso tu abbia visto da ragazzino giocare tante volte tante grandi partite a trento una partita sicuramente molto impegnativa insomma bisogna chiudere l'anno al meglio sì assolutamente kaziski è e era uno degli scacciatori più forti al mondo quando era a trento era all'apice della sua carriera e io veramente da ragazzino della giovanile lo guardavo e provo tantissima stima adesso arriverà arriverà perugia giocheremo contro quindi mi piace la situazione di poter incontrare dall'altra parte del campo un giocatore così